aaaah, porca miseria, ma che cacchio è successo, ma non puoi iniziare il video così, hai preso un colpo mamma mia, oddio ragazzi benvenuti su, wear strict dead 2 questo qua che canta, non lo so, eh, prepara il doodle istantaneo a tuo padre, un'altra volta ok, la scorsa volta abbiamo fatto un botto di volte di noodles, istantaneo, papà, quindi vabbè, lo rifacciamo, vabbè, 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 mangi, mangi tutti i noodles e fatene, oh, mamma mia, ne prendo un altro, per sicurezza, ma che cosa c'è questa qua che canta? Ma ve lo sentite? È la mamma, è la mamma, non ho niente, ma scusate, aspetta, aspetta, aspetta aspetta fatto ok ok ecco perfetto ok buono papà buonissimo grazie ok adesso dove va papà papà dove sta andando la casa non è cambiato in tutto questo comunque infatti identica guarda guarda come hanno ribossato papà vai a vedere oh mi domando chi potrebbe di nuovo essere fuori papà è un dottore della della peste papà non farlo è la persona al faravurosa fuori no va bene bambino papà è davvero forte ma non è vero si è grande papà merda quanto è a noi oh papà ah mi sa che abbiamo visto il futuro ragazzi qui è aperto oh no ragazzi non va sotto ma no cosa è questo ragazzi no annaggia dovevamo nasconderci sotto nello scantinato e poi lei è morta prima di fare tutto niente sta a salire anche le scale questo ok dobbiamo rifare ok ragazzi pronti a scappare di nuovo va bene adesso mi fa andrà un pochi ok ci fa vedere che fbi il col formationsしam ma chi ti sa che ne se va e tranquilla nella nostra comando siam pili abbiamo la stamina adesso che abbiamo caminati a fare un progettato euro ragazzi anche a portare il serbis sbatte in faccia non tassi la mano手 sondern cello carica ro indicaria guarda potete ancora A me lo vado il coso Aspetta Ok mi sono nascosto Io no Non vedo niente Tirati Oh sono dentro Sono da te Grucco Mi sono nascosto dentro di te Ah ok Penso che mi sono riuscito a nascondere allora Oddio vediamo Ti prego ti prego ti prego ti prego Guarda se entra qui Non ammazzo me Ma ammazzo Eh immagina perché Magari attenti dice che sei nascosto a me no Perché mi sono baggato dentro Però non lo vedo Neanche Eh aspettiamo un attimo va Non è che effettivamente devi metterti dentro qualcosa tenendo premuto E Oh no Perché se no non si triggera il fatto che sei nascosto Eh Lox tu lo vedi No Eh ma io no Ma mi sto baggando Ok Mi sono qui dentro Si spette la luce Sventa io Non potete sottare tipo posto Ah 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 Eh Ma porca miseria ma dovete voler cacchio nascondermi Ok questa volta ci siamo usciti a nascondere tutti Sì No io no Vai letto c'è la porta C'è la porta E niente C'è la porta è morta Di andarti a nascondere nella zona dove c'è nascosto gruppo la scorsa volta Non è facilissimo Continuate senza di me Va bene Allora vediamo cosa accade adesso Che ci siamo rimasti solamente in tre praticamente Se ne sta andando Si se ne sta andando Sto spettando la tua faccetta Va bene Oh sopravvivi la notte Ok come si esce Come dovremmo sopravvivere la notte Oh cavallio sono baggato sotto Sopravviveno 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 Eh si Vabbè il classico duodoro Ok spegnete le luci Va bene Ah con l'effetto Dobbiamo fare un antitodo al nostro padre Prima delle tre Ok Quindi due sono ingredienti Quanti find the clue Mamma mia ma è un botto capace Qui c'è una stazione enorme Ma è complicatissimo Ho trovato una batteria Aspetta 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 Quindi mi state dicendo che noi dovremmo praticamente risolvere degli indovinelli Mentre c'è quel pazzo che potrebbe arrivarci da un momento all'altro Ah qui ci sono delle pozioni Cioè delle cose con cui fare le pozioni Ho trovato Una chiave Ah no Un'alchemy book Che ho trovato Penso raga Ah ragazzi No no Aspetta che succede Ah 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 Mi sto baggando Ok Ma dobbiamo trovarli Oh cavolo E che c'è la cosa Ah ragazzi si ok Non lo so Eh molto strano Oh no Deve utilizzare i cartoni Praticamente per bloccare il No 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 Il generatore Il generatore Attento a Smy Ma perché mi sta finendo Svegliato No Porca miseria Non ce la faccio più Mi ha fatto anche a me Ma siamo scesi Grucchio Come uno scivolo Con le scale E' vero Sono molto buffo Elox Tu come sei mai Guarda Elox Tra yarda Tra yarda Sarà per noi Ma mi stai baggando Ma quanto è complicato Comunque come il gioco Cioè tu non puoi sapere mai Quando lui si attiva Come fai a sapere Quando si attiva Allora da quello che ho capito Devo fare delle pozioni Prima delle tre Per fargli l'antidodo Il problema è che E' pieno di pozioni Qua e qui Quali gli faccio Ma la vera domanda è Questa casa Com'è fatta che nel Sottoterra C'è una finestra Già Ehm Non farti domande È un po' strano Se ci pensate Qua stanno gli ingredienti E come fai a sapere Quei pozioni Devi mettere C'è il libro Il problema è che sto da solo Non posso ricordarvi tutto Intanto io fai un bel milkshake Vabbè Qui Quello che ha messo Grucco Ah E dove hai trovato il libro Grucco E' in una di queste stanze Non so per morire perché non mangio E per mangiare devo andare in cucina Ecco ma E sei morto con il mangiare in mano E sei morto di fame con il mangiare in mano Pizzo E poi stai morire entrando Ok Allora siamo di nuovo usciti Amici Sono incastrata Quindi Allora Capiamo un attimo Dobbiamo fare una pozione per nostro padre Giusto? Sì Perché lo capirà Il libro Prendi il libro Prendi il libro Arrivo Allo stesso tempo però Dovremmo anche Se ci pensate Prendere le cose per mangiare Giusto? Eh Sì E anche la benzina Perché forse è meglio Se effettivamente Scorriamo il basement Piuttosto che andare da mio padre E rischiare di morire Allora io il libro l'ho piazzato Allora Ok tu hai piazzato il libro Eh voglio vedere il libro Qualcuno serve che legga Gli ingredienti e faccia Proviamo una pozione a casa No questi sono letty clues comunque ragazzi No ci sono proprio le ricette per le pozioni Eh dove? E vai avanti con la freccetta Ah Mystical milkshake Tra le Va bene Faccio provare il mystical milkshake C'è E Uguale MC al quadrato Ok Cosa serve per fare il mystical milkshake? E Mystical Questo cacchio è Non lo trovo più Tra le clues c'è A2 Oh oh Ascondete No No Il generatore Ah il generatore E rimanete cracciati Aspetta qua S'ha svegliato S'ha svegliato Mannaggia Mannaggia Dai però non può far così sto gioco Che devi andare a sistema Il generatore E intanto quello si sveglia Ma che pezzo di me Adio Elox Porca miseria Non ce la faccio più Adio Ora posso correre Tutti quelli a destra Incredibile Oddio Aspetta Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sto morendo Sto morendo Ragazzi Sto morendo Sto morendo Sto morendo Volevo correre per Ricaricare Il motore Solo è quando Il papà puscia Chiude la porta a chiave Quindi non possiamo manco uscire Per ricaricare il motore Oh mio dio È la fine È la fine Questo gioco È un delirio Come fai a vincere Se questo qua Ogni volta Ti sveglia Ma è che Ah ma sono morto È l'ossigeno Siamo morti Sì Oh mio dio Ragazzi Spero che i prossimi Capitoli saranno meglio Perché questi qua Finora non ci hanno Non ho capito mai nulla Di quello che dobbiamo fare Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale E non ciò perché In un prossimo Nuovissimo video Ci si becca Ciao 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 Nostro padre è veramente Un pezzo di